Oggi venite a me, tut mi esche te opresti a fati cati, in parate a me, e sono mi te, tu mi e di cuore, e riposo e pace, o verete, per il vostro cuore, e riposo e pace, o verete, per il vostro cuore, dice il Signore. Padre, hai giunto ad orare il tuo figlio, perché ti doni la vita eterna, a tutti quelli che tu gli hai donato, questa è la vita a conoscere te, e il figlio tuo, il Cristo Gesù. Oggi venite a me, tutti che siete oppressi e affaticati, imparati da me, e sono mi te, tu mi e di cuore, e riposo e pace, o verete, per il vostro cuore, e riposo e pace, o verete, per il vostro cuore, e riposo e pace, o verete, per il vostro cuore, Grazie a tutti.